Ho iniziato a presentarlo, cercherò di fare un appello finale, poi il finalissimo se lo farà da sé. Avrei voluto non parlare, però gli oratori della lista numero due mi hanno chiamato in causa, impropriamente, maldestramente qualcuno. Io non voglio alimentare la polemica, credo che abbiamo bisogno più di serenità, tanto dopo domani torneremo ad essere tutti cittadini di Gagliano, amici come eravamo e non saranno queste scaramuscio che, almeno per quanto mi riguarda, possano mettere in discussione amicizie storiche che vengono da lontano. Però, Mino Greco, l'altra sera, lui dice che, calciatore, io col calcio non ho molta dimistichezza, mi ha chiamato in causa dicendo Io prendo per buono l'assist che ha fatto Aguille Romano, in ordine a Ernesto Abaterusso, e quindi anche io dico, votiamolo. Boh, io, e poi la cosa che mi ha dato un po' fastidio, dice, l'amico Gilla Romano di cui non condivido nessuna idea. Boh, io, idee c'è non tante, attenzione, io sono versatile per il carattere, io, scusatemi la presunzione, passo dalla filosofia alla polemica da parla, dipende a quali idee lui si riferisse. Ma stasera cercherò di usare il linguaggio calcistico che a lui è più congeniale e mi farò capire, spero. Io quando dicevo il tanto votato Abaterusso non era strumentale, lo confermo stasera, io sono convinto di quello che dico. Io parlavo della territorialità e della rappresentanza che questo territorio ha bisogno per vincere alla marginalità e mi riferivano certamente a lui, lui che fa parte della nomenclatura del partito, lui che fa parte dell'apparato, del cominterno, perché qualche volta mi danno l'impressione che qui siano rimasti dal partito comunista anche berli in guarda, non si saranno accorti che il partito ormai è democristiano, il partito è avvenziano. I comunisti o i pronipoti, i podromi del partito comunista rischiano uno sfratto in casa e ci va di che ha andato via, sta per andare via Fassina, di qui a poco andrà via da Torre, probabilmente da Lema, è tutta la vecchia guardia. Non si parla più di partito o PD, si parla di partito della nazione, signori miei. Io mi riferisco ai giovani del PD che gli vogliono un bene dell'anima, perché a parte che sono amici dei miei figli, ma poi sono bravi persone, persone che si impegnano, hanno un figlio esagerato, a volte li vedi proprio con una passione che non ha limiti. Io mi rivolgo a voi, state attenti, state pensando a un totem, a un partito che non c'è più. Oggi la sociologia parla di fluidità della società, partiti fluidi. Noi viviamo un momento di stravolgimento epocale, guai a pensare al partito, allo statuto, alle regole, ai traditori, chi se ne va? Ma fate lo stesso errore di Berlusconi, usate la stessa terminologia. Berlusconi chiama traditori tutti i delfini che ha fatto fuori, chiama traditore Alfano, traditore Fitto. Stiamo attenti ad usare questi atteggiamenti da tribunale inquisitorio. Siete fuori dal mondo se ragionate così. E quando io dico la metafora calcistica, beh, si è anche invocata la coerenza. Ma come si può essere coerenti? A sinistra è facile essere coerenti. Se un partito nell'arco di diecenni ha mutato geneticamente non solo l'intitolazione, ma la natura del partito, da PC, PD, DS, PD, PD e così via, si è cambiati rimanendo immutati. Questo è il paradosso del partito della sinistra. Ma per tornare alla metafora, dico io, no? Io non ho dato nessun assist, amico mio, anche perché non te la prendere. Io pensavo che non fossi manco in lista. Io ero rimasto a quando, giustamente, tu avevi ceduto il passo, perché doveva entrare qualche Maradona dall'alto, dall'alto. E tu ti eri messo giustamente in panchina, in panchina, 40 rubbiasi, io ti voglio bene e lo sai, e pure tu a me. In quel contesto, per onestà intellettuale, tu non stavi neanche in panchina. Se tu avessi chiesto qualcosa, ti avrebbero dato il ruolo di raccatavalle, minimo. Eppure tu sei un fuori classe, attenzione, io ti consiglio un fuori classe. Tu sei uno che ha la scena politica di Gagliano. E' da 30 anni che stai sulla scena politica. Un po' come me, io ho più intermittenza, a dire la verità. Ma tu sei stato più costante di me. E sei bravo, io ti riconosco. E sei una persona onesta, una persona per bene. Ma andare a vedere tutta questa coerenza. Vi siete incattati, come al solito. A sinistra a Gagliano ha questo difetto, si incatta. E' capace di incattarsi. E poi dalle colpe agli altri. E vengo all'altro oratore che mi ha chiamato incaudamente in causa. E mi rivolgo all'amico Marino Mercati. che ha voluto sottolineare con un cinismo a volte anche un po' cattivello. Quando dice nel 1900... Ti lascerò lo staccio. Nel 1980... Pardon, 2005. Si fa una lista cinica di cui i promotori erano Achille Romano. E c'ero. C'eri tu. Poi c'è da Luigi Golaji. Ma c'era pure lui. Nella fase iniziale c'eri tu insieme a me. Poi sei andato via per fatti che tu ben conosci. E che con la politica non hanno nulla a che fare. E io ritengo che sia sbagliato fare commissioni tra sentimenti personali, passioni, lotte di famiglie. Signori miei, questa è la mala politica. Questo è il decadimento generale. Lasciate fuori i fatti personali. Gestitemi nella privacy dalle vostre famiglie, dalle vostre cose. E questo che fa male alla politica. E io su questo terreno non c'entrerò mai. I fatti miei mi riguardano e mi gestisco a casa mia. E poi... Bisogna fare un passo indietro. Nel 2004 noi tentammo un minestrone senza i quali. Che fortunatamente andò a finire male perché ci bocciarono la lista. E c'eri pure tu insieme a me. E c'era pure Antonio Ercolai insieme a noi. Ieri sera non so chi nel citare quella lista ha dimenticato. Guarda caso Antonio Ercolai. Non so. Saranno i lapsus proidiani. No? Beh, che cosa voglio dire con questo? Che nel 2005 c'era anche l'amico dell'anima Nino Mele. Che non è stato mai nominato. Mino Greco quando fa l'analisi supponente e liquidatoria nel giro di due secondi. Dice tutti i dieci anni c'era anche il tuo zio che ha fatto parte più di me. di quella amministrazione. È stato cinque anni assessore e io sono due anni e mezzo per mia scelta. E allora dice in questo scenario metaforico, no? Calcistico. Uno era ruolo ingiusto di raccattapalle. L'altro è centravanti di sfondamento ma fanno autocollo sul tassi di un avversario politico. E tu dici allora che ruolo hai in tutto questo? Io so anche fare il tifoso esterno. Io se avessi voluto fare il protagonista, gli amici di Cinque Stelle mi hanno proposto candidato sì e non me l'anno scorso. Ho ringraziato. Io ho votato una volta Cinque Stelle e non lo voto più. E non lo voto più per ragioni serie. perché il partito rivoluzionario, anti-doccio, anti-manifesti propagandistici sta mutuando tutti i modi d'essere dei partiti tradizionali e non è manco ipotemosso, credo ci chiamino, il movimento che ha vinto adesso in Spagna che hanno conquistato Barcellona e fa il sindaco, il candidato che è ipotemosso e a Madrid non avendo vinto si sono alleati col partito socialista. Quindi Cinque Stelle non possono sperare di prendere il 51%, non lo prenderanno mai. E allora rischiano di congelare un consenso grande senza dare alcun frutto. Se non cambiano strategia, se non si contaminano, non sono solo loro i puliti, i bravi, eccetera, eccetera, gli onesti per eccellenza. Se non cambiano strategia non andranno a nessuna parte. E allora Marino Mercati continuava però a dire io quindi che ruolo? Del tifoso esterno. Mettetevi nella curva nord o nella curva sud, non me ne intendo tanto. Qualcuno dice sei stato il mentore di Carlo Nesca in questa campagna elettorale. Qualcun altro sei stato l'uomo che ha manipolato all'oscuro, ha fatto trame, licio gelli. Io sono una persona che quello che dice, pensa e dice, mi trovo in mezzo ai guai perché io dico quello che penso sempre. Io sono una persona libera, Marino Mercati, io sono libero quanto te, quanto meno, quanto te. E non mi dare lezioni perché non le accetto, non me le puoi dare. Io non le do a te e tu non le dai a me. E quindi se così stanno le cose, Carlo Nesca io l'ho sostenuto e sarà sicuramente sindaco, è il momento suo. Gagliano ha bisogno di lui. Si è sacrificato, si è sacrificato, non voleva candidarsi. Lo abbiamo costretto, non è stato fitto, non è vero affatto. Fitto, ha tentato, lo ha chiamato due volte, ha desistito, non ce l'ha fatta più. Quando ha accettato, semmai ha chiamato me, ha chiamato Antonio Buccarelli, dice come mai questo miracolo? È successo. Gagliano ha bisogno di Carlo Nesca. Carlo Nesca è una persona seria, è una persona onesta, competente. Avrà i suoi problemi. E te sì, chiudo subito. E dico un'altra cosa. Quelli che simpaticamente hanno chiamato lista numero quattro, vota ma cutri, Cosimino che è una brava persona, è una persona genuina, che dice le cose così d'impatto, stamattina diceva a me, però Achille, attenzione, non è che poi il giorno dopo ti metterai a dire Carlo Nesca ha sbagliato. Se sbaglia lo dirò, altro che io dirò se sbaglia, anzi io gli starò addosso. Io dirò quando sbagli, amico mio, tu sbagli. Non perché lo voti io devo subire gli errori che va a fare, tutt'altro. Lo rovino se faccio così. E arrivo all'ultima cosa e poi chiudo veramente. Il comitato civico, signori miei, io non è che sono il supporter dell'ultima ora di Carlo Nesca. Ci sono stati momenti che ci siamo trovati scontrati come Dio comanda, su fronti opposti. Ma io quando ho fatto il comitato e mi avete chiamato voi per raccogliere firme nell'ospedale, io credevo alla civicità del comitato. Eravate voi di sinistra che volevate strumentalizzare quel comitato. E la sera famigerata del 9 agosto, quando venne qui fitto, io ho preso le distanze nel Consiglio Comunale, nella sala consigliare già allora, e ho tenuto la barra dritta. Io non ho mai strumentalizzato. Voi avete tentato di strumentalizzare. E non vorrei che ciò fosse anche, o dovesse accadere, nell'ambito del comitato civico che abbiamo fatto, di cui il Presidente è Roccuccio o Puliti, così capiamo meglio, senza girare a largo. Quello è un comitato che deve rimanere fino in fondo. E' un comitato che farà le pulce all'amministrazione che verrà. Non ci sottrarremo a criticare l'amministrazione che verrà. Dobbiamo fare così nell'interesse dell'amministrazione del Comune di Gagliano. E chiudo subito. Io l'appello per chi si voti Buccarello, lo rinnovo a cuore aperto. Signori miei, se non vogliamo che ci chiamano capovacanti con ragione, diamo una dimostrazione diversa. A Corsano, i corsanesi, hanno fatto cappotto alle regionali e provinciali. Hanno dato 3.000 voti al candidato loro. Buccarello, non è che, l'ho detto l'altra sera, qualcuno non vuole sentire, non è i fratelli d'Italia, l'Italia creò. Lui si trova in questa lista, per una questione strategica della lista Schittulli. Lui è, oltre conflitto come me, come me, signori miei, se lo votiamo, 2.700 voti gli basterebbero per poter sperare all'elezione del Consiglio regionale. Non lo votate, peggio per voi, peggio per Gagliano, peggio per il territorio. È giusto che esca lui, è giusto che esca dall'altra parte Ernesto Abaterusso. Avremmo due consiglieri territoriale, avremmo tutto da guadagnare. Io chiudo qua, io ti do un bocca al lupo, grande quanto la Chiesa, che è più grande della casa, e speriamo che i gaglianesi ti suffragano come ti meriti. Grazie, buonasera. grazie a Chille, mi risulta anche un po' difficile dopo l'appassionato appello intervenire e cercare di dare di contenuti il tempo che mi rimane per l'appello a questa mia candidatura al Consiglio regionale. perché votare Antonio Buccarello? Non è sufficiente a Chille dire è di Gagliano. È importante per il territorio e credo di averlo detto in modo esplicito che questo territorio ha bisogno di una voce per uscire da una condizione di marginalizzazione e di periferia in cui è stato sistematicamente cacciato. Bisogna votare Francesco Schittulli e poi Antonio Buccarello perché siamo portatori di una proposta politica che parte da una situazione oggettiva reale e che cerca di mutarla perché dieci anni di una primavera che è sfiorita in modo anche un po' sottotono io credo che bisogna partire da lì dalle criticità e dai problemi che lascia cercando di mutare il verso e la direzione. La regione Puglia oggi annovera una disoccupazione giovanile al cinquantotto e uno per cento una delle percentuali più alta se non la più alta a livello nazionale la disoccupazione in Puglia è al di sopra della media nazionale quella generale che è pari al ventitré virgola uno per cento il venticinque per cento dei giovani pugliesi scelgono di andare fuori regione per studiare per catturare un'offerta formativa più adeguata la stragrande maggioranza dei nostri giovani poi sono costretti a rimanere laddove hanno studiato addirittura vagare in Europa con contratti il più delle volte che si attestano intorno ai mille euro è una situazione drammatica è una situazione drammatica perché la Puglia non è più una regione appetibile da un punto di vista fiscale molte aziende sono andate via vuoi per gli effetti di una globalizzazione selvaggia ma vuoi per una tassazione che è la più alta d'Italia le tasse aggiuntive regionali dal 2007 al 2013 fino al 2007 non c'erano le addizionali regionali hanno pesato sui cittadini pugliesi per 1,8 miliardi di euro introducendo aumenti di IRPEF IRAP gas metano depositi rifiuti in discarica accisa sulla benzina e in più in barba tutte le promesse elettorali furono introdotte la tassa di un euro per ricetta farmaceutica e di 10 euro per ricetta specialistica e qui veniamo alla nota all'altra nota dolente del problema regione lo dicevo sere fa chi sbaglia sulla sanità compromette l'azione governativa di una regione fatto 100 euro 83 euro vengono destinati alla sanità per avere la sanità che è sotto gli occhi di tutti i cittadini pugliesi hanno pagato 270 milioni di euro in più per ripianare la voragine sanitaria non solo alle tasse aggiuntive si è aggiunto un piano di rientro che ha falcidiato il sistema ospedaliero e non solo ospedaliero in tutta la Puglia e noi a Gagliano qualcosa ne sappiamo è la regione che sfora la spesa farmaceutica di oltre 250 milioni di euro anche qui c'è forse qualcosa che non va che andrebbe capito e messo riparo sulla sanità se ne sono dette di cotte e di crude però intanto intanto sono dati del 2013 nel 2013 i leccesi che hanno scelto di curarsi fuori provincia sono 11.601 il 10% di questi sono andati fuori in regione e questo è il dramma nel dramma cioè noi paghiamo un sistema sanitario che non dà risposte perché nel momento critico siamo costretti a fare il trolley e andare o fuori provincia quando ci va bene o fuori regione un sistema non competitivo non all'altezza della situazione non all'altezza di un paese civile e moderno e bisogna intervenire in questo settore è inutile prendersi in giro la prima questione deve essere questa e non mi pare che Emiliano abbia avuto un approccio serio sulla questione perché la prima cosa che ha detto due o tre mesi fa è stata questa all'indomani della nomina dei direttori generali per volontà del presidente Vendolo ha detto a quando arrivo io ve ne dovete andare io credo che un approccio più serio avrebbe meritato una riflessione su sul perché la sanità non va e non mi pare che nelle sagre mi pare che le chiami così nelle sagre in cui è elaborato il programma siano emersi siano emersi spunti riflessioni che vanno in questa direzione e si dovrebbe anche porre il problema e rubo una battuta che è circolata in queste serie del turnover che abbiamo fatto noi che non è assolutamente da trascurare l'aspetto morale che ha connotato la sanità regionale in questi anni in sette anni hanno cambiato cinque assessori alla sanità una media di un anno e qualche cosa altro che turnover di Gagliano del Capo cinque assessori in sette anni con questioni che hanno riguardato il primo assessore tedesco Sandro Frisullo Mazzarano e lo stesso Vendola io ho condotto una battaglia e mi avvio a questa conclusione poi riprenderemo per quello che è possibile altri spunti programmatici che mi ha assorbito in tutti i dieci anni e in chiusura di questo intervento vi leggerò la lettera aperta che feci l'otto aprile del 2014 sui quotidiani indirizzata al presidente Vendola caro Marino Melcarne altri spunti una sinistra che si è sempre dichiarata ambientalista una sinistra che si è dichiarata sempre moralmente integerrima ha svenduto questo territorio ha svenduto questo territorio alle grandi multinazionali TAP e Trivelle ne sono la reale dimostrazione di un qualcosa che pregiudica oltremodo questo territorio e lo pregiudica sull'altare di interessi delle grandi multinazionali dei poteri forti che non sono ad appannaggio del centro-destra oggi sono organicamente inseriti e strutturati nella gestione della sinistra tanto a livello romano quanto a livello barese e in questi giorni i grandi poteri forti dell'economia pugliese sono saliti nella stragrande maggioranza dei casi sul carro di Michele Emiliano perché è presumibilmente vincitore e questo dovrebbe farvi preoccupare perché le conseguenze che i cittadini e i territori pagano sono il TAP ma sono per quanto ci riguarda le Trivelle a poche miglia dalla nostra costa un'azione di rigore oltre che morale anche economico non possiamo mantenere baracconi come i consorsi di bonifica che ci costano 25 milioni l'anno di euro e nonostante questa spesa hanno lì consolidato centinaia di milioni di euro che non si sa chi pagherà e quando si pagheranno non si possono mantenere tutte le agenzie che ci costano una barca di soldi si potrebbero tranquillamente mantenere l'ARPA e l'ARES liquidare tutto quell'altro mondo che c'è intorno perché andremmo a risparmiare altri 40 milioni di euro caro Achille i conti si fanno con le mani e si fanno anche con una penna ma soprattutto ci devi mettere la volontà basta con la cultura con l'altra sprecopoli e mi rivolgo a Massimo Fersini con la sprecopoli della Puglia Film Commission del Bifest di Puglia Sound di tutti i portali che sono stati aperti quest'anno e che dopo 15 giorni sono morti hanno drenato milioni di euro milioni di euro per fare spot per osannare il leader che in questo caso era Nichi Vendola una cultura dell'immagine esasperata che non ha portato alcun beneficio perché la Puglia se oggi è il Salento in modo particolare se oggi è al centro dell'attenzione delle dinamiche turistiche degli interessi turistici perché è bella di suo e non perché abbiamo fatto gli spot grazie a Silvia Godelli andate e approfondite la gestione di questi baracconi per capire lo sfascio che c'è stato in questi anni e poi un ultimo aspetto che ci riguarda come territorio e lo richiamo nuovamente perché è fondamentale perché questo territorio tra alcuni anni rischia di essere un deserto non si può cari concittadini ai primi sentori della più grave della più grave malattia che ha investito i nostri oliveti che si è manifestata in quel di Gallipoli nel 2011 arrivare a pochi mesi fa per nominare un commissario straordinario e non mettere assolutamente un centesimo per affrontare in modo organico serio e strutturale questa epidemia fra dieci anni del nostro territorio per la dabbenaggine la non curanza la negligenza e Nardoni ne è l'espressione più alta Nardoni assessore attuale uscente all'agricoltura ne è l'espressione più alta dell'incompetenza e della negligenza assoluta ci hanno impiegato quattro anni a nominare un commissario ma oggi in buona sostanza oltre al problema della xylella che non si ferma noi siamo costretti a sobbaccarci costi aggiuntivi per intensificare le buone pratiche agricole costi aggiuntivi che il governo Renzi non ha voluto e non ha saputo e non ha inteso togliere come limo sui terreni agricoli e una volontà tra l'altro che si è manifestata appena venti giorni fa e chiudo questa è la politica delle cose dei fatti che riguardano la nostra quotidianità e che non si può che cambiare attraverso voci personaggi che a questo territorio sono profondamente legati e di cui ne sono una intima espressione rubo solo due minuti o cinque minuti allora ve la leggo perché la voglio riproporre perché diciamo che è stato il testamento personale su tutta l'attività sanitaria che ho fatto è uscita questa lettera sulla gazzetta dell'otto aprile duemila e quattordici più di un anno fa e che e che diceva così questo l'indirizzo oltre che essere indirizzato al presidente vendola l'indirizzo a Marino Melcarne come testi come espressione di un percorso che mi ha visto coinvolto sulla problematica sanitaria e non è vero che non abbiamo proposto soluzioni prima del piano strategico del 2008 e Biasco se lo ricorda noi proponemmo l'ospedale di base perché il piano della salute prevedeva quel modello di soluzione poi l'hanno fatto abortire hanno fatto un nuovo piano della salute regionale e proponevamo una soluzione di servizi territoriali anche di primo livello sistematicamente boicottate sistematicamente non ascoltati sistematicamente ignorati perché questa è la verità e lunedì mattina a urne chiuse a risultati conseguiti caro Marino puoi prendere e mi fa felice se accetti l'invito un caffè con il sottoscritto e ti consegnerò copia di dieci anni di battaglia e non soltanto di Antonio Buccarello battaglie che a livello istituzionale hanno coinvolto l'unione dei comuni l'ambito di zona singoli comuni come Presiccia Acquarica che non appartengono a questi livelli ambiti della provincia di Lecce la provincia di Lecce le componenti politiche dei consigli comunali di Gagliano questa è la eredità che lasciamo ma abbiamo soltanto ottenuto il silenzio abbiamo ottenuto la mortificazione abbiamo ottenuto di non avere nulla perché forse non c'era quella voce e quella libera espressione che può in qualche modo condizionare le scelte a livello regionale un minuto e ve la leggo Egregio Presidente Michi Vendola giusto tre anni fa veniva sancita la chiusura del presidio ospedaliero Daniele Romasi di Gagliano in barba alle sue promesse elettorali ai tanti piani regionali della salute ai tanti inutili e estenuanti percorsi partecipativi che hanno solo tentato di narcotizzare una protesta legittima ma che hanno lasciato una ferita profonda nella popolazione del capo di Leuca lei caro Presidente in questi anni ha saputo solo togliere e marginalizzare ancora di più il sud della nostra regione il suo comportamento ha assunto sempre di più le sembianze tipiche di quei padroni che disponevano del destino dei loro operai senza diritto di replica e di cittadinanza non so gli dicevo quanto lei conosca di questo sud ma le posso assicurare che tra le doti di questa terra non difettano dignità correttezza e rispetto delle regole democratiche quel rispetto che lei ha sistematicamente calpestato e offeso nonostante tenti di accreditarsi come leader progressista rispettoso della volontà popolare ma che di fatto è solo prigioniero di una vuota apparenza fatta solo di annunci e promesse espressione di una gestione che anziché guardare alle reali problematiche dei territori è sfociata sistematicamente in un populismo di maniera a cui non crede più nessuno alcuni giorni fa eravamo ad un passo dal vedere concretizzare la riconversione dell'ex presidio ospedaliero sul modello della casa della salute riconversione sancita da una delibera ASL la 1107 del 28 giugno 2011 e ratificata dalla volontà unanime della rappresentanza della conferenza dei sindaci della provincia di Lecce tutto ciò si è interrotto con una nota della direzione ASL per non meglio specificati motivi tecnici salvo poi apprendere dalla stampa che in realtà si è trattato di un goffo tentativo di omaggiare il questuante di TUR in vista della prossima campagna elettorale dopo aver desertificato la sanità pubblica nel capo di Leuca e aver consolidato la posizione della più potente lobby privata che opera nel nostro territorio in modo arrogante e farzesco ha voluto ulteriormente modificare le aspettative della popolazione lo invitavo alle dimissioni perché ci ho messo sempre la faccia e ci metterò la faccia se il vostro consenso mi consentirà di poterlo esprimere in via Capruzzi a Bari grazie cittadini chiudiamo questa campagna elettorale per cortesia il rispetto prima di ogni cosa delle regole e della democrazia il rispetto quello che in qualche piccolo episodio è mancato quindi stiamo sereni stiamo tranquilli ognuno faccia la sua battaglia come giusto che sia ma nel rispetto delle regole dicevo si chiude questa campagna elettorale tra l'altro per me è un po' anomala perché è stretto dalla dinamica locale e forse il messaggio della candidatura regionale è passato in un in secondo piano appassiona di più la questione ovviamente locale ma solo nella forma perché nella sostanza nella sostanza le vere decisioni si prendono in quel di Bari e anche qui bisogna invertire la tendenza bisogna invertire il corso il verso rubo un termine che ha usato spesso il presidente Renzi per uscire da uno sfascio totale che ha connotato il governo delle sinistre in questi dieci anni intriso di demagogia come quella che ha connotato la campagna elettorale di Antonio Biasco solo demagogia solo populismo e solo accuse gratuite Antonio Biasco te lo ripeto con fermezza sul piano etico e sul piano morale al sottoscritto e agli amici che sostengo della lista numero tre tu non puoi dare alcuna lezione ma proprio nessuna lezione caro Antonio Biasco né sul piano della coerenza né sul piano della morale non sei non puoi arrogarti il ruolo di censore perché non ne hai le qualità e dovresti portare più rispetto perché per raccattare qualche voto nella tua mente perché la gente sa valutare ti lasci andare a sproluochi e accuse infamanti non lo merita la mia persona non lo meritano le persone che mi sono stati accanto non lo merita Gagliano Gagliano merita questo sì una politica più pulita un linguaggio più urbano delle menti veramente libere e la tua non lo è capisco la difficoltà tua in questa che hai avuto in questa campagna elettorale di accreditarti e di legittimarti ma tu sei nato con un peccato originale tu sei figlio di volontà che non ti appartengono e dovevi dirlo ai concittadini e hai taciuto hai tentato soltanto di buttare fango per nascondere questo peccato originale che non ti può assolutamente essere assolto perché è figlio di retropensieri di riserve mentali e di un populismo se mi consenti anche Becero altro che non risposte le facciamo facciamo una cosa le facciamo da lunedì a campagna elettorale chiusa a fari spenti al risultato conseguito e poi vedremo quante fandonie hai gettato sulla piazza tu e quante verità invece ci sono da questa parte hai parlato di programmi hai parlato di sogni un po' come i sogni di vendola della primavera vendoliana che è sfiorita è morta sia sul piano politico sia sul piano dei risultati non se ne parla più di vendola eppure tu fino all'altro giorno lo hai sostenuto adesso non so se appartiene a vendola se appartiene a Renzi ma non mi appassionano queste ricerche e non intendo assolutamente scoprire come dire i tuoi percorsi è una cosa che non mi riguarda io dico invece che da questa condizione di emarginazione di questa terra bisogna uscire e bisogna uscire dando voce a questa terra ma dandola seriamente cercando di andare al cuore dei problemi cercando di dare delle soluzioni ai problemi non con la demagogia ma facendo riferimento a parametri ben precisi alle risorse disponibili certe i sogni vanno bene danno slancio mettono la mente nelle condizioni di generare comunque una prospettiva di generare il futuro però poi i sogni devono essere devono diventare realtà e la bravura è lì caro Biasco e caro Francesco dei 5 Stelle non vi avevo mai ascoltati vi ho sentiti questa sera vedete la democrazia è una cosa bellissima io sono innamorato non solo di Gagliano ma del paese Italia della mia nazione perché solo attraverso tante lotte abbiamo avuto la democrazia e ognuno può esprimere liberamente il suo pensiero e ci mancherebbe altro però il pensiero deve avere anche una sua dignità la dignità della coerenza Biasco mi accusa sul piano morale qualcun altro mi accusa sul piano del disastro ambientale io dico che ci vuole pudore io dico che ci vuole anche tanta non so come definirla ci vuole tanta veramente tanta ipocrisia a dire queste cose ognuno di noi ha una storia personale la mia storia è nota è conosciuta è arcinota può essere radiografata in mille modi ma non troverete mai un neo da questo punto di vista estendo un velo pietoso non voglio chiudere la campagna elettorale con la polemica e con le risposte alle provocazioni veramente fuori luogo io invece voglio e chiedo il sostegno dei miei concittadini in questa battaglia che mi vede impegnato per la candidatura al consiglio regionale mi scuso nelle volte precedenti ho fatto il porta a porta questa volta purtroppo non l'ho potuto fare come i candidati locali perché impegnato in un territorio più vasto e questo ripeto non mi ha consentito di contattare personalmente ognuno di voi ma solo per questa ragione io sono a disposizione ancora di Gagliano ho passione per dedicarmi ancora ai problemi della mia terra e della mia gente questo potrà avvenire soltanto se il vostro sostegno e il vostro conforto da un punto di vista elettorale si potrà concretizzare mettendo una croce su Francesco Schittulli fratelli d'Italia Antonio Buccarello io credo e spero di non deludere di non deludere voi di non deludere le aspettative della mia gente ma soprattutto le aspettative dei nostri giovani e dei nostri figli grazie per quanto farete grazie per l'apporto e la considerazione e la stima che mi avete sempre dato io ci sarò insieme a voi ancora per questo che per me ha rappresentato un onore ma anche una battaglia e spero di vincerla insieme a voi grazie per quanto farete buonasera a tutti